Allora, andiamo a provare i motori. Comandi liberi. Always da India 7087, allineamento al decollo, pista 1-8. Allora, siamo in testata a pista. Pronti, amore. Temperature a posto, pressioni a posto, premio nasieri. Sì, comanetta. Sì, comanetta. siamo a 170 andiamo a incrociare i venti che vengono da nord est quindi dobbiamo mettere la frua un po' a sinistra e un po' a sinistra una penna virata a sinistra un po' a tirata e prenderemo il vento da destra andiamo a qualche giro queste sono se non ricordo male le caserne di Remanzasso quindi siamo in piena zona vento e si condono a procedere andiamo un po' di giri si balla un po' allora il vento viene da questa direzione come abbiamo avuto modo di vedere spesso nella zona del Criuli il vento di Pona viene da nord est vediamo che c'è l'esercizio vediamo che c'è Alessandro da qualche parte non c'è nessuno qui sotto qui dovrebbe essere un po' chiamiamo allora questo è da India 708 su del campo 800 piedi faremo un altro passaggio sull'asse pista per il poi per il poi un secondo se non ci sono problemi io mi metterò il lungo qui Sono sulla verticale saldo, auto 100 piedi. Ok, allora non ci sono problemi. SIGLA 7087 da Always Radio, a descrizione. Ok, allora mi metto in finale, non vedo più... Ah, ecco, Alessandro ce l'ho lontano, però comunque è a vista. Ok, allora ci mettiamo in finale, sulla testata pista, a 100 km all'ora, 300 piedi. Siamo a 90 km all'ora, 100 km all'ora, ci aiuterà a sostenerci un po'. Ecco, i soliti fili della luce da saltare, perché questi sono un grado. Siamo a 90 km all'ora. Siamo a 90 km all'ora. Ed era l'87. Siamo a 90 km all'ora. Siamo a 90 km all'ora.